Quali sono le difficoltà che si sono presentate negli ultimi anni per lo svolgimento di questa professione? Essenzialmente il medico è un intermediario tra scienza e società. La società e la scienza hanno subito dei cambiamenti enormi. La medicina ha subito delle trasformazioni impensabili. Le medicine e cure che oggi abbiamo ieri erano impossibili da avere. Cure di malattie che oggi si possono fare ieri non si potevano fare. Quindi il medico non può essere sempre il solito medico, la solita figura di medico. Deve avere una identità che si adegua ai cambiamenti della scienza e della società.